ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un altro fanny glitch oggi si abbiamo fatto più o meno quasi tutti i fanny glitch questa è un'altra catapulta per fare questo bisognerà venire in questo punto della mappa in pratica dove c'è la fiera dove c'è la ruota panoramica le montagne russe insomma non ci stanno i giochi penso che tutti sappiate e con un amico basterà che vi mettete in questo punto dove sono le moto d'acqua sull'asse di legno e il vostro amico andrà a sparare diciamo sul bordo dell'asse di legno fino a farla baggare come state guardando stanno sparando sull'asse di legno e basterà prenderci un po' la mano diciamo non accadrà subito però vi accorgerete che comunque si baggerà e che vi catapulterà abbastanza alto diciamo che io ho fatto anche dei salti molto alti che mi spavano al paracadute insomma quindi è abbastanza divertente questo per esempio è un salto un saltino così comunque sia ragazzi come vi ho detto venite qui in questo punto con un amico uno spara e l'altro si mette sul bordo del diciamo della della piattaforma di legno e l'altro comunque andrà a sparare in pratica succederà questa cosa succederà una bug che provocherà una sorta di catapulta ragazzi non niente di che è una cosa divertente qualcosa di divertente da da vedere ultimamente si stanno trovando una cifra di questi glitch in giro per lo santos quando è uno vi vuole far vedere insomma un glitch è una stronzatella una stupidaggine però mi piace farlo vedere va bene ragazzi per questo funny glitch è tutto un saluto da maxi al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti